Grazie mille, grazie Presidente, grazie ai parlamentari, grazie per averci dato questa opportunità. Abbiamo inviato come Commissione anche una nota che riepiloga un po' i contenuti rispetto al disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità e quindi da parte mia riporterò quanto immerso all'interno delle discussioni politiche. Premetto che già abbiamo avuto occasione di incontrare il Ministro Mosumeci su questo tema avendone discusso in più occasioni. Esprimiamo positività rispetto ad alcune proposte emendative che sono state accolte mentre altre ad oggi e poi andrò ad illustrare i dettagli non hanno ottenuto attualmente un via libera. Per quanto riguarda il disegno di legge 1632, come vi dicevo, pur apprezzando la modifica che è stata portata all'articolo 3,1, laddove si individua quale possibile figura commissariale quella del Presidente della Regione, noi riteniamo che questa debba essere necessariamente inserita come norma. Questo perché si ritiene che qualsiasi scelta che riguarda i territori debba essere condivisa con gli stessi ponendo la centralità agli enti territoriali che vengono interessati dal tema della ricostruzione. Inoltre si evidenziano alcuni passaggi contenuti all'interno del disegno di legge che pongono alcune questioni secondo noi di attenzione da parte della Commissione ma anche da parte del Governo e in particolar modo vanno a toccare quella che secondo noi è un'incoerenza tra le finalità della norma e l'applicabilità della stessa. All'atto pratico emerge un tema collegato alla semplificazione, quindi lo stesso provvedimento che cerca di porsi come codice unico secondo noi riscontra poi nelle realtà criticità per la diversità degli eventi nei quali questo deve trovare applicazione. Eventi che come potete capire sono molto diversi fra di loro e quindi hanno bisogno anche di procedure diverse. Inoltre si evidenza un tema collegato alle tempistiche, quindi tempistiche molto lunghe e collegate a provvedimenti che molto spesso devono coinvolgere altri soggetti e questo non fa che allungare l'iter amministrativo di fronte ad uno Stato appunto legato ad un'emergenza. Inoltre si pone un tema collegato al coordinamento. Cosa significa? Significa che la governance del disegno di legge in questione rimane molto complessa e secondo noi anche priva di elementi di sussidiarietà. Questo perché? Perché le uniche disposizioni di potenziamento delle strutture in questo disegno di legge sono concesse e sono in capo al Dipartimento Casa Italia, mentre nulla è previsto rispetto alle amministrazioni territoriali e locali. Inoltre appunto collegandoci sempre al passaggio che ho fatto prima legato anche alla semplificazione e quindi anche ad un'accelerazione che serve nelle procedure diciamo che il disegno di legge rispetto a molte parti in realtà rimanda e rinvia anche altri tipi di normative, di decreti e di direttive e quindi questo sicuramente non facilita diciamo così quello che è l'iter. Un altro tema molto rilevante che è emerso all'interno dei lavori della Commissione Protezione Civile e che si ricollega al tema della ricostruzione è il tema collegato alla gestione dei rifiuti. Una materia che secondo noi già nella ordinarietà avrebbe bisogno di una modifica, di una revisione normativa ma che soprattutto nei casi eccezionali collegati a questi tipi di eventi pone molte difficoltà, soprattutto quando si parla di rifiuti e di terre e rocce da scavo che necessitano di interventi normativi appunto come dicevano che hanno bisogno sicuramente di una rivisitazione. Si riferisce in particolar modo a questo disegno di legge soprattutto per quanto riguarda i materiali trasportati sia da eventi alluvionali ed in maniera ancora più evidente da eventi infranosi, in luoghi non antropizzati, di moni da rischi di contaminazione o inquinamento e questa situazione però mal si concilia con quella che poi è la realtà delle situazioni in cui questi eventi accadono dove diciamo così non si trovano queste possibilità e quindi con complicazioni molto evidenti per quanto riguarda le amministrazioni e i territori e soprattutto anche un'assenza di appetibilità di questi materiali nelle dinamiche di riuso produttivo. L'ultimo tema che noi abbiamo sollevato è quello legato alle assicurazioni, sicuramente con questo disegno di legge si è fatto un passo in avanti ma noi riteniamo che qualcosa in più si possa fare, ad esempio andando a incidere su quella che è la detrazione dei premi assicurativi versati da parte dei contribuenti. Per quanto riguarda invece gli ulteriori due disegni di legge, quindi il 589 e il 647, la Commissione già negli scorsi mesi ha espresso un parere negativo, in particolar modo sul disegno di legge 589 gli assessori hanno evidenziato come in questo disegno di legge venga meno la centralità dei territori e quindi ci sia un ruolo delle regioni molto debole e marginale, una centralizzazione nella gestione delle emergenze nel ruolo delle regioni, fatta salva l'intesa che è stata inserita, quindi il ruolo delle regioni viene praticamente annullato e vengono ispunte alcune questioni che noi riteniamo importanti. Inoltre, e vale anche per il disegno di legge 647, non riteniamo che questi due testi siano coordinati con il disegno di legge quadro del governo.